...e tanti a contatto, perché stando a contatto può sempre trasmettere un profumo di lei, di tappa. Quindi dopo un anno, due, tre, noi li teniamo dritti e non c'è problema. Senti, se può, è po' il problema. Poi, logicamente, dopo cinquanta, sessant'anni, il tappa, anche lui, perché, però, tanti stappano, toltono il Gesù, però io non lo farò mai, perché togliere il tappo vuol dire togliere la certezza del prodotto. Il tappo è un tappo, un tappo, un tappo di Cristo, ti posso dire, non l'hai aperta e hai messo altro. Allora, per essere segreti, io lascio contatto perché non ci vuoi, anche me ci siamo, perché non ci vuoi, ma non ci vuoi, ma non ci vuoi. Sì, no. Il sigillo, il sigillo, la tappa, la tappa, poi c'è il tappo, non è non lo conosco. Ma, sì, non mi andiamo a dare, non ci vuoi. Se noi tutti gli anni, se tu le sanno, ci sono una demonstrazione radicale, di Varovo, e vengono di 10-15 giornalisti, per esempio, esperti di questi limiti. E quest'anno abbiamo aperto Varovo, 61, 64, 67, 82, 99. E' nato buono, tutte grazie a tutti. Il 64 è stato una spesa, il primo anno che si è occupato alla testa di Varovo. E' stata una gran casa, è straordinaria. Allora, questi sono i due libri, questi sono i rovere di Salonia, per i decadenti tradizionali del Varovo. Qui il Varovo è da tre anni di vita. Poi lasciamo una piccola parte di produzione. Facciamo una piccola parte di produzione. Poi facciamo di riserva, dopo di riserva, in 1-5. Poi si vuole assegnare l'iniziativa del Varovo. L'importante è la temperatura. Sì, noi siamo sempre sotto il calore, diciamo, sotto la terra. La temperatura si può spartare. C'è perché l'air di vengrare. Ecco, più e meno. Presa forte. Presa forte. Ci sono forti. Ci sono forti. Ci sono forti. Ecco, ma forza. Qua. Assorbe. I composto e i fuochi suati. Nel cambio di temperatura. Io ieri, per esempio, le ho riempite tutte ieri. Perché mi vanno giù di livello. E' molto importante che la botte sia sempre piena. Perché naturalmente il vino, se viene dimenticato nella botte, tende a diventare aceto. Quindi, se c'è aria. Certo. Ma se si crea uno spazio d'aria. I germi dell'ossida. Certo. Perché l'acido contenuto nel vino si trasforma in acido acetico. Che contiene una piccola parte di acido acetico nel vino, eh. Ma non deve superare lo 08, 09. Perché se oltrepassa lo 01, si comincia a sentire lo spunto. E noi non possiamo dare di vini spune, no? Invece con queste qualità assoluta. Allora, invece queste sono le famose, chiamiamo barri. Io non sono molto amico di queste barri. Però le uso come il sale nella minestra. Perché? Le no terroire, c'è un terroire che donne alle vini un'aggressività di Ternè. Allora, un petit passage dans les petites barri. Il fait un ammorbidimento. Ok? Un'attenuazione dell'aggressività di Ternè. C'è un piccolo T. Ma T.T.E. Ma T.T.E. Dove invece non mi trovo con le bariche quando si lascia tre anni nella bariche. Io vado a delle degustazioni. E tre mesi fa sono andato a una degustazione, c'erano tutti i vini anche francesi, c'erano toscani. Dopo un po' io ho detto io me ne vado alla maison. Ma perché? Dovevate invitare i falegnami qua? Non mi va. L'eccesso di barri per me è spersonalizzare le qualità del vino. Il ha abbandonato la degustazione. Il fa inviterà i menusini e non i produttori.